Per seguire più obiettivi di sostenibilità mettendo in connessione sforzi e strategie rafforza risultati complessivi ben oltre la semplice somma di quanto si ottiene nell'ambito di uno specifico target. E' quanto emerge dall'analisi di Giovanni Ferri, docente della LUNSA, nel corso della tappa romana, la prima dell'edizione 2022, del Giro d'Italia della Sostenibilità organizzato dal Salone della Siesar e dell'Innovazione Sociale. Incontro di lavoro che si è svolto proprio nell'Aula Magna della Libera Università Maria Santissima Assunta. Gli obiettivi se li mettiamo in connessione si potenziano perché noi dobbiamo immaginare che molto spesso spingere su un obiettivo può avere degli effetti positivi anche su altri obiettivi. Vi faccio solo un esempio, quello dell'istruzione con quello dell'emancipazione femminile. E' impossibile far emancipare le donne nella società se non si mandano nel processo di istruzione e si apre l'istruzione alle donne. Ferri mette in evidenza la necessità di misurare l'impatto di queste connessioni così da fornire a decisori pubblici e privati strumenti migliori per fare scelte coerenti con l'Agenda 2030. E' importante avere consapevolezza delle connessioni tra i vari obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 perché se non si tiene conto delle interconnessioni si sviliscono questi effetti positivi. Non siamo in grado di apprezzarli, mentre misurandoli saremo in grado di perseguire più di un obiettivo insieme e rafforzare l'un l'altro. Noi abbiamo cominciato già da qualche anno a misurare queste interconnessioni tra obiettivi di sviluppo sostenibile alla LUNSA e stiamo procedendo, scendendo al livello inferiore perché come è noto ai nostri interlocutori, sotto i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ci sono 169 target e 240 indicatori. A quei livelli si possono trovare molti interconnessioni assai interessanti e che vanno studiate per valorizzare il contributo alla transizione sostenibile che possono essere ottenuti all'interno delle aziende così come all'interno delle amministrazioni pubbliche o delle ONG. Le connessioni sostenibili sono il filo conduttore che lega le varie tappe del Giro d'Italia della Sostenibilità 2022. Connessioni da intendere sotto molteplici aspetti. Nella tappa di Roma, oltre alle connessioni sistemiche tra obiettivi dell'Agenda 2030, è stata posta l'attenzione per esempio su quelle infrastrutturali, ma anche a quelle particolari connessioni imposte dalla pandemia e che hanno portato all'uso massivo della didattica a distanza. Connessioni da valutare, in questo e in ogni altro caso, anche con spirito critico. La pandemia ci restituisce dei giovani che sono iperconnessi dal punto di vista digitale e ipoconnessi dal punto di vista sociale ed emotivo. Questo sta rappresentando un problema sociale rilevante. Pensiamo a tutto il tema dei NIT. L'Italia è il paese della zona euro col più alto numero di NIT. I NIT sono i ragazzi che non lavorano, studiano e neanche cercano un lavoro. Circa un giovane su quattro, tra i 15 e i 35 anni, si trova in questa condizione. Questa non connessione sociale emotiva si scontra con un fabbisogno formativo che è tutto oggi spostato sul tema delle soft skills, quindi sul tema della capacità dell'ascolso, di entrare in relazione con gli altri, di collaborare, di risolvere i problemi, di vivere in un ambiente in un ambiente multiculturale. Oggi le università, le istituzioni universitarie hanno necessità di rientrare in connessione con i giovani, ma non di farlo dal punto di vista digitale, ma dal punto di vista sociale ed emotivo. Sono 10 le tappe del Giro d'Italia della Sostenibilità 2022. L'agenda completa degli appuntamenti è consultabile al sito del Salone della Siesara e dell'Innovazione Sociale.